Ciao a tutti, broccoloni del zio vostro e bentornati sul mio canale didattico Diago Ti Spiego nella sezione della matematica. In questo video cominceremo ad affrontare le equazioni di secondo grado parametriche. Per affrontare questa lezione dovrai sapere effettuare lo studio del delta e ti dovrai ricordare qual è la relazione che sussiste tra le radici e i coefficienti di un'equazione di secondo grado, argomento che abbiamo visto nel precedente video. Se non ti sei ancora iscritto al mio canale, sbrega te! Oppure seguimi su Instagram. Vediamo se capisci qualcosa, va? Cominciamo questa nuova lezione in cui parleremo approfonditamente di equazioni di secondo grado parametriche. Per capirci subito, le equazioni parametriche sono delle equazioni in cui può comparire una lettera diversa dalla nostra incognita x, come coefficiente di x quadro, come coefficiente di x, ma anche come termine noto. Non è necessario che tutte e tre questi termini abbiano una lettera, ma essa può comparire in una di queste, due di queste o in tutte e tre. La domanda che vi deve venire subito in testa è, ma allora che differenza c'è rispetto alle equazioni letterali che abbiamo ampiamente visto in due precedenti video? La risposta è la seguente. Nelle equazioni letterali io devo andare a studiare come variano le soluzioni al variare della lettera che ho all'interno della mia equazione. In particolare dovrò fare una prima discussione sul coefficiente di x quadro e poi dovrò fare una discussione sul delta dell'equazione di secondo grado, fino a capire quali sono le mie soluzioni al variare del valore che do alla lettera che ho nell'equazione. Nelle equazioni parametriche, invece, non devo fare una discussione perché devo semplicemente andare a trovare il valore della mia lettera, che quindi si chiamerà parametro, che soddisfa una determinata condizione. Andiamo a vedere quindi quali sono le tipologie di richieste che ci possono essere fatte. La prima tipologia di richieste che ci può essere fatta è sul tipo di soluzione che vogliamo e questo coincide con una richiesta sul delta della nostra equazione di secondo grado. Prendiamo quindi per esempio l'equazione x alla seconda meno 2kx più 5k e riconosciamo innanzitutto quanto è a, che nel nostro caso vale 1, quanto è b, che vale meno 2k e quanto è c, che vale 5k. La richiesta che ci può essere fatta riguardo la tipologia di soluzioni può essere la seguente, ovvero trovare per quale valore di k l'equazione. Ammette radici reali e distinte, oppure ammette radici reali e coincidenti, oppure non ammette radici. In genere l'esercizio vi può fare tutte e tre queste richieste, ma può anche richiedervene una soltanto. Come facciamo a rispondere a questa domanda? Che vuol dire che la nostra equazione ammette radici reali e distinte. Qual è quel valore che ci dice se le soluzioni della nostra equazione di secondo grado sono reali e distinte, oppure reali e coincidenti, oppure non ci sono soluzioni? È ovviamente il delta. Quando è che le radici sono reali e distinte? Ovviamente quando il delta è maggiore di zero. Mentre quando è che le soluzioni sono reali e coincidenti? Ovviamente quando il delta è uguale a zero. E sempre di conseguenza non avrò soluzioni quando il delta è minore di zero. Ora, vedete, siccome il delta non è nient'altro che b quadro meno 4ac, mi basterà scrivere al posto di a, b e c i valori che ho per la mia equazione di secondo grado, ovvero per i miei coefficienti in k, e risolvere la disequazione o l'equazione che ho lì. Come devo fare quindi a risolvere la prima disequazione? Devo scrivere semplicemente b quadro meno 4ac, quindi meno 2k al quadrato meno 4 per 1 per 5k maggiore di zero. E devo andare a risolvere. Quindi ottengo 4k quadro meno 20k maggiore di zero. Ora, vedete, questa non è nient'altro che una disequazione di secondo grado che si risolve raccogliendo 4k e scrivendo tra parentesi k meno 5. Passo all'equazione associata, quindi metto uguale a zero, e trovo le soluzioni k uguale zero e k uguale 5. A questo punto uso il metodo della parabola e se metto come soluzioni zero e 5 devo andare a prendere la parte della parabola positiva. Quindi scriverò come soluzioni k minore di zero oppure k maggiore di 5. Che vuol dire questa cosa? Che se prendo valori di k minore di zero o maggiore di 5 sono sicuro che il delta sarà maggiore di zero e quindi avrò soluzioni reali. Ora, per quanto riguarda la seconda condizione, cioè quella per delta uguale a zero, io le soluzioni che rendono il delta a zero le ho già trovate, perché ovviamente saranno proprio i valori che rendono zero la mia equazione. Quindi quella condizione sarà soddisfatta proprio per k uguale zero e k uguale 5. E non devo fare i conti neanche per quanto riguarda la terza condizione, cioè per delta a meno di zero, perché semplicemente saranno i valori per cui quella parabola è negativa, cioè i valori che si trovano al di sotto dell'asse delle x. E quindi quella condizione sarà verificata per k compreso tra zero e 5. Possiamo dire quindi che tutte e tre queste condizioni sono complementari l'una all'altra. Attenzione perché nella maggior parte dei casi vi chiede invece una quarta condizione, che è la condizione in cui voglio delle radici reali, senza specificare che siano distinte oppure coincidenti. In questo caso quindi non devo fare null'altro che unire la prima condizione alla seconda condizione e quindi dire che il delta può essere maggiore di zero, ma anche uguale a zero. In questo caso quindi mi basterà prendere la soluzione che ho trovato nel primo caso e aggiungere l'uguale sul simbolo di maggiore e minore. Andiamo a vedere altre tipologie di richieste. La seconda tipologia di condizioni che ci possono essere richieste quando abbiamo a che fare con un'equazione parametrica è quella sulla somma delle radici, cioè ci viene chiesto di trovare il valore di k per cui la somma delle radici di quell'equazione valga un determinato numero. Per risolvere questa tipologia di richieste ho bisogno di due accortezze. La prima è di ricordarmi una delle relazioni che lega i coefficienti di un'equazione a, b e c con le radici dell'equazione stessa, in particolare la somma. Se non lo ricordate potete andarla a vedere nel video precedente a questo. In quel video abbiamo detto che la somma delle soluzioni di un'equazione di secondo grado si può scrivere come meno b su a, dove b ed a sono proprio i coefficienti dell'equazione di secondo grado. La seconda attenzione che dovete mettere in campo è la seguente. Dovete fare una sorta di condizione di esistenza per quanto riguarda quell'equazione di secondo grado. Per quale motivo? Voi volete delle radici o comunque volete che la somma delle vostre radici faccia un determinato numero. Quindi è chiaro che queste radici devono essere necessariamente reali. Possono essere distinte o coincidenti, non importa, ma devono essere reali. Quindi questo che cosa vuol dire? Che per poter andare avanti con l'esercizio quell'equazione deve ammettere soluzioni reali. E quindi questo vuol dire che il delta deve essere maggiore o uguale di zero. Quindi questa condizione che abbiamo visto nel precedente esercizio è una condizione che va imposta sempre quando state facendo esercizi in cui vi chiede un'altra condizione. Nel nostro caso quindi scriveremo che 4k meno 1 al quadrato quindi b quadro meno 4k per 4k deve essere maggiore o uguale a zero. Con pochi semplici passaggi troviamo che la soluzione di quella disequazione di secondo grado è k minore o uguale di un ottavo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che adesso noi andremo a fare degli esercizi esercizi e devo essere certo però che i valori che troviamo di k siano minori o uguali a un ottavo altrimenti non li potrò accettare. Quali sono le condizioni tipiche che vengono richieste in un esercizio sulla somma delle radici? Ne esistono varie ma noi andiamo a studiare quelle principali. Vi può essere richiesto il fatto di trovare i valori di k affinché la somma delle radici sia uguale a un numero la somma delle radici sia maggiore o minore di un numero le radici siano opposte. Andiamo a vederle con ordine. Che vuol dire che la somma delle radici deve essere uguale a un numero nel nostro caso 2. Abbiamo detto che la somma delle radici che è x1 più x2 per noi vale meno b su a e questa quantità ci è detto quanto deve valere deve valere 2. Quindi vedete mi basterà risolvere questa equazione in cui al posto di a vado a mettere il coefficiente di x quadro che è k e al posto di b vado a mettere il coefficiente della x che è 4k meno 1 e avrò risolto velocemente la mia equazione. Scriverò quindi meno 4k meno 1 che è la nostra b fratto k uguale 2. A questo punto moltiplico a destra e a sinistra per la quantità k così me la posso eliminare dal denominatore questo solo dopo aver fatto la condizione di esistenza che mi dice che k deve essere diverso da 0. e a questo punto ottengo meno 4k più 1 uguale 2k Il risultato sarà quindi k uguale 1 sesto Ora vedete ragazzi devo andare a verificare che quel valore che ho ottenuto sia effettivamente minore di 1 ottavo e questa quantità sicuramente non è minore di 1 ottavo perché 1 sesto è più grande di 1 ottavo e quindi posso dire che quello 1 sesto non è accettabile cioè non lo posso considerare come valore che soddisfa la mia richiesta Analogamente se la somma delle nostre radici deve essere maggiore di 3 mi basterà scrivere che meno b fratto a sia maggiore del numero che ho richiesto io quindi si tratterà di risolvere la stessa espressione solo che adesso ho a che fare con una disequazione quindi non posso in nessun modo andare a togliere il denominatore Quello che devo fare quindi è portare il 3 dall'altra parte andare a fare il minimo comune multiplo e fare i conti a questo punto separare il numeratore e il denominatore e porli maggiore di 0 e ottenere k minore di un settimo per quanto riguarda il numeratore e k maggiore di 0 per quanto riguarda il denominatore fare il grafico dei segni e andare a considerare la quantità positiva la mia soluzione è quindi k compreso tra 0 e un settimo e ora ragazzi cosa devo fare quella soluzione che ho trovato non è un numero ma è un intervallo che deve soddisfare sempre la condizione che mi dice che i valori di k devono essere minori di un ottavo quindi stavolta cosa devo fare tra questa condizione e questa condizione non posso prendere un numero e vedere se sta dentro l'intervallo k minore di un ottavo ma devo fare un sistema che mi consenta di trovare i valori in comune a quelle due disequazioni trovata la mia soluzione quindi devo fare un sistema tra quelle due condizioni e trovare le zone in comune la prima soluzione mi dice tra 0 e un settimo e la condizione di esistenza sul delta mi dice k minore uguale di un ottavo la mia soluzione finale sarà quindi k compreso tra 0 e un ottavo ecco qui ragazzi questa è la mia vera condizione mi raccomando non vi fermate alla soluzione della disequazione fratta dovete sempre fare il sistema con la condizione sul delta della nostra equazione passiamo ora all'ultima condizione che ci dice le radici devono essere opposte ora questa può sembrare controintuitiva perché dove sta scritto somma però tentiamo di ragionare su che cosa vuol dire che le radici sono opposte vuol dire che se la prima radice è x1 la seconda radice è meno x2 perché essere opposte vuol dire proprio questo uguale ma con segno contrario però vedete se io semplicemente porto x2 dall'altra parte ottengo che x1 più x2 è uguale a 0 e quindi che cosa sto dicendo se non che la somma deve essere 0 ovvero che meno b su a deve fare proprio 0 e questa ragazzi è la condizione che ci permette di trovare il valore di k mi basterà scrivere quindi la quantità che ho preso nei primi due esempi e porlo uguale a 0 semplificare k al denominatore perché tanto di là c'è 0 e trovare come soluzione k uguale un quarto e a questo punto mi devo chiedere k uguale a un quarto è accettabile cioè veramente minore di un ottavo e la risposta è assolutamente no infatti quel valore lì un quarto è sicuramente più grande del valore un ottavo quindi non lo posso accettare terminiamo con l'ultima tipologia di richieste che riguarda invece il prodotto delle radici anche in questo caso per risolvere questa tipologia di esercizi le accortezze sono due la seconda è sempre che il delta delle equazioni di secondo grado deve essere maggiore o uguale di 0 così da consentirci di avere delle radici reali la seconda invece è ricordarsi qual è la seconda relazione che lega le soluzioni di un'equazione di secondo grado ai coefficienti ed in particolare la relazione sul prodotto sappiamo infatti sempre dal nostro video precedente che la moltiplicazione delle radici di un'equazione vale c sua in termini di coefficienti delle equazioni di secondo grado presa quindi la nostra equazione x quadro meno kx più 4k non dobbiamo fare nient'altro come prima cosa che imporre che il delta sia maggiore o uguale di 0 otteniamo quindi k quadro meno 16k maggiore o uguale di 0 da cui risolvendo con il metodo della parabola o con il grafico dei segni otteniamo k minore o uguale di 0 oppure k maggiore o uguale di 16 quelli sono gli intervalli di accettabilità per i nostri valori di k quali sono le richieste tipiche che ci possono essere fatte per questa tipologia di esercizi partiamo dalla prima che è quella più classica cioè ci chiede di trovare il valore di k per cui il prodotto delle radici sia maggiore minore o uguale a un certo numero supponiamo nel nostro caso uguale a 2 come possiamo risolvere questa relazione ci basta scrivere che il prodotto delle nostre radici cioè x1 per x2 che noi sappiamo essere proprio c su a deve essere nel nostro caso uguale a 2 e vedete risolvendo questa semplice equazione qua io ho risolto sostanzialmente il mio esercizio chiaramente in questo caso un pochino più semplice ho un'equazione qualora avessi maggiore o minore di 2 dovrei semplicemente risolvere una disequazione anche in questo caso osservando che a vale 1 b vale meno k e c vale 4k possiamo scrivere semplicemente che 4k fratto 1 che è proprio a è uguale a 2 da qui ottengo quindi che k deve essere uguale a un mezzo perché sarebbe 2 fratto 4 ora la domanda che mi devo fare è questo valore è un mezzo soddisfa le nostre condizioni sul delta cioè è effettivamente minore di 0 o maggiore di 16 assolutamente no quindi quel valore non potrà essere accettabile perché è un valore che non mi consente di avere un delta maggiore di 0 cioè delle radici reali passiamo alla seconda richiesta tipica le radici sono reciproche oppure antireciproche anche in questo caso il ragionamento è un po' controintuitivo ma scrivendo la relazione di reciprocità tra le soluzioni viene fuori il prodotto in che modo? dire che le soluzioni sono reciproche significa dire che x1 deve essere uguale a 1 fratto x2 se quindi moltiplico a destra e a sinistra per x2 sto dicendo che in realtà x1 per x2 deve essere uguale a 1 che cosa sto dicendo quindi? sto dicendo che il prodotto ovvero c su a deve essere uguale a 1 risolvendo questa equazione esattamente come prima ottengo il valore di k che stavo cercando anche in questo caso quindi vedete che 4k sarà uguale a 1 stavolta e non a 2 quindi k sarà uguale a 1 quarto che badate bene anche in questo caso sarà non accettabile è perché non è un valore minore di 0 o maggiore di 16 di questo caso esiste anche la variante radici antireciproche guardate che non è diverso da quello che abbiamo visto perché antireciproche vuol dire semplicemente che x1 è uguale a meno 1 su x2 ovvero x1 per x2 uguale meno 1 cioè c su a uguale meno 1 quindi si risolverà nello stesso modo e otterrò come soluzione k meno un quarto e vedete che adesso questo valore qua lo posso accettare perché meno un quarto è più piccolo di 0 per concludere finiamo con l'ultima richiesta che ci chiede di trovare i valori di k per cui gli altri ci sono concordi o discordi che cosa vuol dire concordi che le due radici sono o tutte e due positive o tutte e due negative e chi è che ci dà un'informazione certa sul fatto che le radici siano tutte e due positive o tutte e due negative è ovviamente il prodotto perché sia nel caso che siano tutte e due positive sia nel caso che siano tutte e due negative sicuramente il prodotto di quelle radici sarà maggiore di 0 e questo perché ovviamente quando vado a fare il prodotto di due cose che hanno lo stesso segno mi danno una quantità positiva dovrò scrivere quindi semplicemente che 4k deve essere maggiore di 0 e quindi k maggiore di 0 a questo punto vedete che questa è una disequazione quella soluzione lì deve essere messa a sistema con la mia condizione di esistenza quindi k minore uguale di 0 e k maggiore uguale di 16 è chiaro quindi che la parte in comune è solo quella per k maggiore di 16 quindi la soluzione effettiva della mia richiesta è k maggiore uguale di 16 se le radici concordi hanno come condizione il fatto che il prodotto debba essere maggiore di 0 quelle discordi avranno come condizione il fatto che il prodotto debba essere negativo ovvero k minore di 0 mettendo anche questo a sistema con la mia condizione sul delta mi darà come soluzione k minore di 0 ecco fatto ragazzi con questo esercizio abbiamo concluso e anche con questo video nel prossimo video vedremo come trovare i valori di k che soddisfano delle condizioni un po' più particolari quindi un pochino meno comuni e poi faremo degli esercizi con tutte queste richieste mixate grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima